Paolo e Clizia sposi, i dettagli sul matrimonio, tutto su invitati e ospiti VIP manca davvero pochissimo alle nozze di Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro. La popolarissima coppia, che si è incontrata e innamorata al grande fratello VIP, si prepara al matrimonio che avverrà il 12 luglio prossimo, a Forte dei Marmi. Si tratta di luogo molto caro al volto di, Forum, perché è proprio lì che i genitori, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si sono conosciuti ai tempi del set del film, Sapore di Mare. Paolo Ciavarro e Clizia in Corvaia sposi, i dettagli sul matrimonio. Come dicevamo, la location scelta dai futuri sposi, Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro, è la magnifica città di Forte dei Marmi. Il ricevimento e la festa saranno celebrati al Maitò, uno dei luoghi più esclusivi di Forte dei Marmi, mentre i novelli sposi e parte degli invitati alloggeranno al Gran Hotel Principe di Piemonte, della stessa proprietà del ristorante Beach Club. Paolo Ciavarro e Clizia in Corvaia sposi, chi sono gli invitati? Le nozze saranno riprese dalle videocamere di Canale 5. Certa la partecipazione di alcuni ex concorrenti del, Grande Fratello Vip. Tra gli invitati senz'altro Edoardo Tavassi, compagno della sorella della sposa, Nicole in Corvaia. Si vocifera anche l'arrivo di Patti Bravo e di Pier Silvio Berlusconi, accompagnato da Silvia Toffanim. Paolo Ciavarro e Clizia in Corvaia sposi, nozze super blindate. Le nozze saranno super blindate, troppi dettagli a riguardo non ce ne sono. Qualche tempo fa, Clizia in Corvaia a proposito dei preparativi ha dichiarato, sarà un matrimonio con tanti amici ma non troppi. Paolo avrebbe voluto un matrimonio con pochi intimi, ma la mia famiglia è grande. Saremo circa 100 persone, il brand scelto per gli abiti da sposa è quello di Galia Lahav. Il matrimonio si sarebbe dovuto tenere ad ottobre, ma è stato anticipato a causa del peggioramento delle condizioni di salute di Eleonora Giorgi, madre di lui, alla quale è stato diagnosticato un tumore mesi fa. Il viaggio di nozze sarà alle Maldive. Gli invitati verranno accolti da un allestimento a tema con aperitivo sulla spiaggia e poi raffinata cena di pesce sotto le stelle. Chissà che ruolo avrà alla cerimonia il piccolo Gabriele, figlio della coppia, nato nel 2022. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo il matrimonio, voleranno all'estero. Per la luna di miele i due hanno scelto le Maldive.